Ecco, in sei mesi per me, in Francia sarà fuori legge sicura, per quello è da pensare, sei mesi, no ma ok, allora dove sono i proprietari? Sono di Torino e abitano a Torino, però per fare il contratto devono venire, ah scusi devo Sì, d'accordo, devono venire qua, ok, vediamo loro come li va